Si interrompe al menti di Castellammare di Stabia la striscia di 5 risultati utili per il Teramo, condita dalle ultime 3 vittorie consecutive. Un gol di Matino condanna infatti i Biancorossi che incappano ancora una volta in un K.O. in trasferta, prima sconfitta del girone di ritorno. È una gara che non offre molte emozioni ma si giocherà comunque sempre a buoni ritmi. Campilongo imita Tedino piazzando Bulevardi, un centrocampista, accanto a Germinale in attacco. L'ex Pescara e Teramo sarà importante sia in fase di possesso che in quella di non possesso, andando a disturbare i portatori di palla. La prima occasione degna di nota arriva al diciassettesimo, quando D'Andrea si fa trovare pronto su un angolo battuto da Costa Ferreira. Teramo con in campo da subito i baby Santoro, Vieri e Piacentini ha qualche difficoltà di manovra con la Cavese che al ventesimo vede Germinale girare sul fondo un cross dalla destra. Al ventiseesimo Sainz-Mazza prova a sorprendere Tomei con un pallonetto che si spegne alto sulla traversa, mentre qualche minuto dopo è Marzorati ad avere una mezza occasione per i padroni di casa. Più evidente la situazione al quarantaduesimo. Di Roberto, lanciato da Sainz-Mazza, si vede annullare un gol per una presunta posizione di fuorigioco. Due minuti dopo è clamoroso l'occasione che capita a Matera. Da un cross in area ribattuto da soprano, il centrocampista ha il tempo di piazzare, ma spara quasi addosso a Tomei, molto bravo comunque di riflesso ad allontanare il pericolo. Arrigoni prende il posto di Viero ad inizio ripresa, un po' probabilmente per l'ammunizione, un po' anche per qualche difficoltà incontrata dall'ex Sassuolo. Il termo si fa vedere prima dalla distanza con Tentardini e poi con una punizione di Bombaggi che D'Andrea allontana. Il gol dei Blufonze però gela i biancorossi. Dagli sviluppi di un corner la Cavese gioca bene sulla fascia e Di Roberto piazza un cross in mezzo che Matino incorna per il vantaggio dei padroni di casa. Poco dopo Tomei è ancora bravo a chiudere su Sainz-Mazza, che approfitta per lanciarsi dopo uno scontro tra Cancellotti e Piacentini. Proprio quest'ultimo, dopo la botta in testa, lascia il campo a Cristini. L'unica vera risposta del termo è quella che capita a Bombaggi, che coglie il palo a giro di destro. Tedino prova a cambiare qualcosa inserendo anche Mungo, Birligia e K, ma la pressione biancorossa non si traduce in reali occasioni. Domenica prossima il Diavolo proverà a riscattarsi ospitando il Rende al Bonolis.